Avrebbe dovuto prendere parte al convegno su banche e finanza, ma Aurelio De Laurenti s'ha disertato l'evento. Un'assenza che ha fatto rumore, soprattutto perché è arrivata dopo il post di Facebook da parte di Roberto Calenda, manager di Victor Rosyman. Non è così impossibile che in queste ore il patron azzurro stia imbastendo la trattativa giusta per vendere l'attaccante nigeriano. Chelsea e Arsenal avrebbero fatto sapere di essere interessate a trattare, più defilato il Paris Saint Germain, che non vorrebbe pagare l'intero importo della clausola recessoria. Intanto Alpatini si lavora duro, si corre e si suda in vista del secondo test internazionale contro il Brest, in programma questa sera. In difesa ha confermato buongiorno, ma soprattutto Nathan, che in questo ritiro sta dimostrando quello che non era riuscito ad esprimere lo scorso campionato. I tifosi sono fiduciosi, al momento il reparto arretrato sembra essere infatti quello più affidabile e competitivo. Nathan l'ho visto in grande spolvero, fortissimo per me, però deve crescere ancora. Può essere a posto, però alla fine penso che qualche altro difensore dovrebbe arrivare. Se proprio si deve fare un ultimo acquisto in difesa, però siamo già a un punto. Se Nathan non derude le aspettative. Nathan, diciamo che l'abbiamo valutato in una stagione che non è da riferimento. Magari con allenamenti diversi, con un allenatore diverso, potrebbe dare qualcosa in più. Secondo me Nathan potrebbe essere una pedina importante per questo Napoli, visto che comunque l'anno scorso tutti hanno perso un po' quello che era il loro valore, quindi potrebbe diventare un calciatore fondamentale anche con l'addio di Ostigard. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.